Grazie, come ti trovi con Brissard? Bene, mi trovo bene, mi trovo bene Brissard, un grande pagliatore e dobbiamo prendere un po' del ritmo adesso, però abbiamo dimostrato che questo fine settimana, quando conta, ci siamo. Senti, 10 Eias a partita, in questo fondamentale siete diventati, siete devastanti? Eh, mi ho fatto una bella partita di battuta, no? No, è stato, noi abbiamo battitore forte, quindi alla parabola moderna adesso si batte bene, è più facile giocare parabola, no? Però noi abbiamo questa squadra, dobbiamo continuare così. Senti, potete aprire un ciclo, secondo te? Come? Potete aprire un ciclo di vittorie? Eh, speriamo. Beh, questa squadra... È iniziata adesso, quindi adesso è campionato, dopo la Ceve.